Musica Quest'anno abbiamo organizzato un torneo di calcetto in ricordo di Anillo Cucci che è stato un operatore sociale della cooperativa Finitemba e ha operato per circa 10 anni nei centri della zona orientale di Salerno hanno partecipato varie squadre al torneo di vari quartieri della città di Salerno sono Mariconda per la categoria 6-8, Prometeo per la categoria 9-12 ancora Mariconda per la categoria 13-16 e infine Mariconda per la categoria 17-1 le associazioni che hanno collaborato con noi sono l'associazione Diogliara il Gatto con i vestivali, Prometeo 82, Antos, Girasole, Anselle Gretel, il quartiere Mariconda e penso siamo tutte spero di non essere identificata a nessuno non me ne vogliate male sono contenta di questa iniziativa che è andata a buon fine ma soprattutto il fatto che riusciamo a ricordare Anillo che è per noi un grande operatore che è rimasto nei nostri e nel cuore dei nostri utenti